Siamo in compagnia di Vanessa Congiu, una delle organizzatrici dell'ottava Sagra del Maiale. Prego Vanessa, illustraci il programma. Salve a tutti, la Sagra si svolgerà a Genoni il 7 giugno. Inizierà alle 19.30 con la degustazione di malorelus con sugo di salsiccia, bistecche, salsiccia arrosto e cotene, tutto accompagnato da un buon vino, acqua e pane. Alle 23 ci sarà l'estrazione dei biglietti della lotteria con richi premi e la serata verrà alietata dal fisarmonicista Gianni Ore. È prevista una quota per la degustazione? Sì, è prevista una quota di Euro 5 per gli adulti e Euro 3 per i bambini inferiori a 10 anni. Vi aspettiamo numerosi, non mancate! Grazie Vanessa! Grazie a voi!